Eccoci qua, allora questa sera noi vogliamo accendere i riflettori sul nostro sistema sanitario nazionale. Pensate che è nato nel 1978, voglio ricordarlo, perché era quell'anno lì da una donna, il primo ministro della Repubblica in Italia, donna, Tina Anselmi, che metteva la firma sulla legge con cui appunto nasceva il nostro servizio sanitario nazionale. Nasceva una riforma che metteva al primo posto il diritto fondamentale del cittadino ad aver tutelato la sua salute. E lo Stato avrebbe preso in carico la salute di tutti quanti, senza differenze. E infatti il nostro sistema sanitario nazionale è sempre stato un fiore all'occhiello, proprio in tutta Europa, per molto tempo. Pensate che l'Italia è stata la prima in Europa a metterlo proprio il diritto alla salute pubblico in Costituzione. Oggi invece non sta proprio bene. E noi vogliamo fare un punto su come tirarlo su, su quello che andrebbe fatto, sulle riforme più importanti, insieme a un grande esperto che è Nino Cartabellotta. Benvenuto a Geo, presidente della Fondazione Gimbe, che proprio il 10 ottobre scorso ha reso pubblico il sesto rapporto sul servizio sanitario nazionale. Che purtroppo dice che sta andando verso il baratro, vero, dottor Cartabellotta, no? Ma io credo che bisogna partire da quanto ha detto lei. Il Servizio Sanitario Nazionale è nato con i principi fondanti di universalità, di eguaglianza, di equità, che oggi sono sostanzialmente stati traditi. Le parole chiave, mi si permette il termine, che troneggiano un po' ovunque, sono le interminabili liste d'attesa, gli affollamenti dei pronto soccorso, la difficoltà a ottenere una visita, l'aumento della spesa privata, la migrazione sanitaria, fino addirittura alla rinuncia alle cure, come documenta l'Istat, che addirittura nel 2021 ha raggiunto l'11% della popolazione, quindi numeri molto alti. Quindi è evidente che quel modello di sistema, per tutta una serie di ragioni, oggi non funziona più per come era stato creato. Ecco, adesso andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le cose che lo stanno portando a picco nel baratro. Prima però mi piacerebbe commentare con lei una clip che abbiamo preso dalle teche, che proprio ci fa sentire Tine Anselmi nel 78 al TG1. Vediamolo. Cambiare culturalmente lo stesso concetto di sanità, che non è solo garantire prestazioni sanitarie, ma è quello soprattutto di prevenire l'area in cui è necessario l'intervento sanitario, attraverso un'azione di prevenzione che deve fare del cittadino non solo l'utente, ma anche il gestore della propria salute. Bisogna cercare di aiutare il più possibile la famiglia, perché il cittadino che può avere anche bisogno di cure, ma non di spedalizzazione, venga curato presso la famiglia. Questo non solo per un problema di spesa, che è già importante, ma anche per un problema di carattere umano, psicologico. L'ammalato che è curato in casa, se è curato, reagisce di più alla sua malattia, e la combatte meglio. Ecco, dottor Cartabellotto, come era organizzata prima la sanità in Italia? A quei tempi? A me viene intanto in mente due cose fondamentali della parola dell'onorevole Anselmi. La prima è che già dall'inizio si pensava di puntare sulla prevenzione, un pilastro fondante dell'organizzazione del sistema. Questo non è stato mantenuto, perché oggi le regioni, rispetto a quella che è la quota di risorse che viene assegnata allo Stato, in prevenzione, quando va bene, spendono il 5%. Quindi noi abbiamo un servizio sanitario prevalentemente di riparazione, di diagnosi e terapia. L'altra cosa fondamentale che le ha detto è quella della domiciliarità, cioè la capacità di offrire cure a domicilio della persona, perché ciascun malato, soprattutto le persone anziane, si trovano meglio, soprattutto se non hanno bisogno nell'ospedale, a essere curate tra le proprie mura domestiche. E questo, diciamo, anche per tutta una serie di aspetti di tipo relazionale. Quindi anche la visione che c'era 45 anni fa rispetto alle modalità con cui organizzare l'assistenza erano ben chiare. Poi però non sono andate secondo quelle che erano le migliori intenzioni. Purtroppo no. Oggi le cose di cui lei sta parlando sono dei miraggi assoluti per noi, no? Trovare la domiciliazione proprio non esiste proprio. Quali sono state le altre riforme decisive sul nostro sistema sanitario nazionale? Ma noi di fatto abbiamo avuto due riforme, poi le venute tre e due vengono accorpate insieme, la 502 e la 517 del 92-93, che hanno sostanzialmente fatto la cosiddetta aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, che era inevitabile per ragioni, diciamo, di contenimento dei costi, però è stata interpretata più, secondo me, con un approccio industriale, come se la sanità producesse bulloni piuttosto che biciclette, e non salute, che è qualcosa di molto più complesso. Quindi valutare le aziende sanitarie soltanto su parametri economici e non sugli esseri di salute è stato uno dei problemi, perché di fatto un po' tutto il sistema si è regolamentato su quegli aspetti. Poi c'è stata la riforma del 99, quando il ministro era l'onorevole Bindi, quindi la cosiddetta riforma Bindi, e da allora di fatto noi non abbiamo avuto più riforme in sanità. Quindi stiamo parlando di un sistema dove l'ultima vera riforma risale a quasi 25 anni fa. E' chiaro che poi in mezzo, diciamo, qualche anno dopo il 99, c'è stata la riforma del titolo quinto che ha rivoluzionato i rapporti tra governo e regioni, però di fatto noi oggi abbiamo un sistema che rispetto alla transizione demografica, epidemiologica, informatica, noi sostanzialmente abbiamo un modello organizzativo che ferma a 25 anni fa. Allora, lei ha definito il sistema sanitario nazionale un malato cronico. Cioè la fotografia che emerge dall'ultimo rapporto, appunto, è di qualcosa che sta scivolando in un baratro. E' un malato cronico perché in particolare a partire dal 2010 si sono verificate una serie di fenomeni. Intanto l'imponente definanziamento che ha sottratto circa 37 miliardi tra il 2010 e il 2019. Quanto? 37 miliardi. E tantissimo? 25 di tagli più 12 di definanziamento programmato. Sono tantissime perché... Ma a un certo punto sono stati fatti 25 tagli tutti insieme? 25 miliardi tutti insieme Quando l'allora governo tecnico Monti era, diciamo, costretto, tra virgolette, a risanare la finanza pubblica del Paese per rientrare nei parametri europei ed essendo la spesa sanitaria, la fetta di spesa pubblica più facilmente aggredibile, si è tagliato tantissimo e prevalentemente in sanità. Ed allora è cominciato un lento declino perché un po' tutti i governi si sono adattati a questa... Io l'ho sempre chiamata la strategia del banco, Matt. Cioè, quando serve qualcosa c'è da finanziare qualche misura particolare, da dove le prendiamo i soldi della sanità. Ma perché dalla sanità? Perché dalla sanità è molto semplice sottrarre denaro pubblico dalla spesa pubblica senza creare particolari problemi perché si limano tutta una serie di risorse, per esempio il tetto di spesa sul personale, quello sui farmaci, quello sui dispositivi che da un lato impediscono alle regioni di spendere di più e dall'altro ovviamente allo Stato di non andare oltre determinati limiti di spesa rispetto ad altre, diciamo, fette di spesa pubblica. Penso per esempio a quelle delle pensioni dove un'eventuale azione di qualsiasi governo creerebbe, diciamo, un'insurrezione generale. Ma bastano i fondi per risanare il nostro sistema sanitario nazionale? Assolutamente no. Ci vogliono risorse, ce ne vogliono tante, ma devono essere mespese perché il modello organizzativo oggi genera tanti sprechi, soprattutto nell'interfaccia tra ospedale e territorio, ma anche nelle procedure di acquisto di beni e servizi. Ci sono anche cose spiacevoli, quali frodi, abusi, che ovviamente sottrazione... Come si fa lì a impedire queste cose, a provvedere a una gestione migliore? La gestione migliore, secondo me, dipende anche dalla capacità dello Stato di integrare il governo degli sprechi nei meccanismi di finanziamento e di valutazione delle regioni. Quindi bisogna fare delle riforme anche lì? Bisogna fare delle riforme strutturali che fanno sì che una regione che non eroga determinati servizi e prestazioni abbia una penalizzazione economica e le prenda dalle tasse dei cittadini. Tanto alla fine, quello che succede con il meccanismo dei cosiddetti piani di rientro è la stessa cosa, solo che avviene quando poi i buoi sono scappati. Quindi meglio farlo un po' alla volta, questo tipo di valutazione. Però questo richiede una grande volontà politica e riforme importanti. Io le chiamo riforme di rottura, cioè quelle riforme che cambiano completamente il modo di vedere e gestire le cose rispetto al passato. Quindi non è solo un problema di soldi che sono stati tagliati nel corso degli ultimi 20 anni, ma è proprio un problema di doverla riformare completamente come gestione? Noi dobbiamo immaginare, sempre con la metafora del malato, quando non ci si prende cura di una persona non è solo la malattia in sé che la fa stare peggio, ma sono tutte le condizioni, quelle ambientali, quelle di care, di cure. Oggi pensiamo solo allo stato dei pronto soccorso. Assolutamente. Dove ci sono medici veramente in esaurimento, al limite delle forze, sottopagati, dove ce li sottraggono paesi vicino pagando il triplo. Ecco, quello è il classico esempio di come il progressivo indebolimento ha creato la demotivazione professionale e che fa sì che oggi, che anche se avessimo tanti soldi per pagare questi professionisti, non li abbiamo, perché la scuola di specializzazione in medicina d'urgenza è quella che fa assegnare il numero minore di preferenza da parte dei giovani, perché oggi lavorare in un pronto soccorso è una specie di incubo per il medico. È come stare veramente in trincea da questo punto di vista. Ma è possibile questa cosa? Va valorizzata in particolare questa specialità, così come la grande carenza di personale infermieristico su cui noi stiamo costruendo sulla carta tutta la riforma del DM77, della riorganizzazione dell'assistenza territoriale voluta dal PNRR, ma anche il capitale umano. Ecco, la pandemia da Covid-19 è stata un durissimo banco di prova per l'Italia, vero? Lo è stato, perché ci ha trovati già fortemente indeboliti, quindi quel periodo 2010... Soprattutto sulla medicina del territorio, no? 2010-2019 l'aveva indebolito già strutturalmente, professionalmente, soprattutto sulla parte della medicina territoriale che in alcune regioni che avevano investito sul territorio in tempi non sospetti magari sono riuscite a gestirle in maniera migliore. Chi invece ha preferito investire quasi esclusivamente sull'ospedale si è trovato ovviamente più in difficoltà. Dottor Cattabellotta, ma qual è la strada? Indichiamo qualche soluzione, qualche suggerimento? Ma la strada è... Come si procede quando lei diceva una specie di catastrofe incombente? Ma io credo che... C'è il paragone come il ghiacciaio che si scioglie, no? Innanzitutto ci voglio un patto politico e sociale. Un patto politico per me significa che indipendentemente dagli avvicinamenti di governo il Servizio Sanitario Nazionale debba essere non solo riconosciuto come grande pilastro della democrazia ma debba essere adeguatamente rifinanziato e riformato. Quindi ci sono decisioni che appartengono alla politica. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di azioni e di attività che competono anche i singoli cittadini che devono fare anche un buon uso del Servizio Sanitario Pubblico perché tante volte noi vogliamo fare un esame piuttosto che un certo tipo di trattamento che magari non è appropriato o non è necessario e incide su quelli che sono gli sprechi quindi ci sono una serie di aspetti e credo che su questo non sia stata fatta negli anni un'educazione anche civica rispetto a quello che è il valore e il ruolo della sanità pubblica nel tutelare la salute. Sì, un po', diciamo ho preso tutto e tutto per tutti perché tanto pagava qualcuno e quindi era gratis. Bisogna anche rafforzare molto la medicina del territorio e di prossimità. E tutto quello che poi passa dalla riorganizzazione dei servizi perché noi oggi dobbiamo riservare l'ospedale soltanto alle patologie che richiedono veramente un'assistenza per acuti e riorganizzare una gamma di assistenza territoriale che non è solo quella del medico di famiglia ma è fatta dalle case di comunità dagli ospedali di comunità dall'assistenza domiciliare dai dipartimenti di prevenzione dai dipartimenti di salute mentale che sono un altro dei punti deboli di tutta l'assistenza territoriale più tutta la rete diciamo di assistenza residenziale e semi-residenziale cioè il territorio deve assorbire la maggior parte della domanda perché se vai in ospedale non ce la facciamo né con i posti letto né tantomeno vogliori con i costi grazie dottor Cartabelotti è stato molto interessante grazie a Nino Cartabelotti presidente della fondazione Gimbe